Ascalogno! Guardate che meraviglia, queste spigole! Grazie! Grazie! No, adesso abbiamo fatto qualche... ...eppine delle sue sue? ...eppine delle sue sue? ...eppine delle sue sue? ...eppine! Non lo sopevrano! ...eppine! ...eppine! Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Forse, non c'è nessuno! ehi hanzo please don't kill me tak toby było ... ... ... ... o no o no o no qui è una pire qui guardiamo è stato riuscito a i 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 Ezio father what happened took a bit of a beating but i'm all right what of your mother and sister safe now aneta took them yes wait you knew this would happen not the way he did and not this soon doesn't matter now what do you mean explain there is no time listen closely return to the house in my office is a hidden door use your talent to find it beyond lies a chest take everything you find inside much of it may seem strange to you but all of it is important do you understand yes good among the contents is a letter and with it some documents i need you to take these documents to mrs roberto he was with me in the office this morning the gonfalonieri i remember now please tell me what's happening are the paci behind this there was a note for you at the building room it said go Ezio go now ya then now now and to maybe i have che No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no So, va bene. Pugner quel punto allora adesso mi mi permette. Per quanto riguarda. E' I'vito. Si, sono l'fasci. Ndolci poter essere l'antico? Il fraccio. Caudi. Ehi, che amico, dioxide! Questo è qualcuno che hai scelto il loro passato. Il mio padre dice che c'era una porta qui. a verrà vediamo un esempio Adrino è assassino. Un'applicazione. Noi, è venire. Ehm, devo portare questo a signore Roberto. Ehi, cosa con le braccia? Non potresti me arrestare? No. Cosa vuoi? Per te dieci. Attacca, Gregg! C'è tante. Io sì. non ho capito Non si vedo, non mi solle. Non mi solle. Non mi solle, non mi solle. No 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 Nesmeme Bejte ponáhlede No Nesmeme Takže Já můžu uskakovat a můžu uskočit jakoby za ní a nedopíchnout Il mio instaccio. Ehm... ...ehm... 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 Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. Ah... I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me... ...contain evidence of a conspiracy. Against your family... ...and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning. It'll be at least. Thank you, signore. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. Don't worry, Ezio. Everything is going to be fine. Hmm... ...I think I don't know... ...when there is a death. So... ... 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 come se volete do bica si chiami come se volete se volete non ho bisogno chiedete con il foglio e non 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 si Oggi! L'hope a te! Che c'è la scuola! Chiedete se pittari qui, stessi, tu? Voi! Voi! Il! I 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 ora andiamo alla scuola di te grazie a te chiusi e la 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 so io questa è il il cosa il che si Sì. 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 I auditori! You and your accomplices stand accused of the crime of treason! Have you any evidence to counter this charge? Yes! The documents that were delivered to you last night! I'm afraid I know nothing of these documents. He's lying! Need to get closer. in the absence of any compelling evidence to the contrary i am bound to pronounce you guilty you and your collaborators are hereby sentenced to death you are the traitor roberto and one of them you may take our lives this day but we will have yours in return i swear we will father there grab the boy he's one of them i'll kill you for what you've done i'll kill you i'll kill you . . . . . non ho non ho non ho puta ma ho non ho non ho No, 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 no. Come si usrò il mezzo, non Crippler. Grazie a tutti. 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 Oh... Grazie a tutti. 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 Ok... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I've been... What? What? ... 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 ...... ... 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 Grazie Ezio, sorry about that. Eh, I've grown accustomed to their abuses. What of the body? Bring it inside and put it with the others. Others? The city gives them to me for research. They come on, man. 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 Of course. Now, I really should be getting back to Paola. Porgile i miei omaci. Porgile i miei omaci. Porgile i miei omaci. Porgile i miei omaci. the team will be getting back to you. I can't go away. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.